Una bandiera siriana hissata su un pennone in favore di telecamera e affidandosi a queste immagini che il governo di Damasco e la tv di stato siriana inviano al mondo il messaggio che la riconquista della guta orientale sarebbe ormai questione di ore. Cinque settimane e 1600 morti dopo l'avvio dell'offensiva contro il bastione ribelle alle porte di Damasco, diversi pullman avrebbero proceduto questo lunedì a evacuare dalla città di Duma la residua resistenza dei combattenti del principale gruppo ribelle al fine di condurli con le loro famiglie nel nord del paese. Oltre 40.000, secondo Damasco, le persone evacuate solo negli ultimi otto giorni. Se confermata, la notizia potrebbe accreditare l'ipotesi di un avvenuto accordo per il disarmo dei ribelli che allarma tuttavia le componenti sunnite, timorose che l'operazione miri a un ricambio demografico volto a privilegiare minoranze come quella alla guida di Assad.